Siamo delusi, delusi perché in questo primo mese è stata totalmente fallimentare la comunicazione, non c'è stato un impegno costante rispetto a quello che stava avvenendo e soprattutto rispetto a quello che si stava facendo per ripristinare i servizi con i cittadini. Così come sono stati lasciati in balia di se stessi gli operatori che continuano ad andare avanti con il cartaceo e hanno enormi disservizi all'interno dell'azienda. In tutto ciò abbiamo chiesto con una interpellanza molto corposa al Presidente Marsilio di relazionare dopo un mese finalmente viene in Consiglio regionale, ci dà alcune risposte che però raccontano e rappresentano una realtà profondamente diversa da quella che al contrario vivono le migliaia di cittadini e le migliaia di pazienti qui in Regione Abruzzo, nella AS dell'Aquila in particolar modo e gli operatori sanitari. Andremo avanti con la nostra operazione di accertamento delle responsabilità, con i mezzi che abbiamo a disposizione e alla fine di questo lavoro nel quale costruiremo documento dopo documento evidentemente porteremo avanti anche un'iniziativa politica forte per evidenziarne le responsabilità.